Peraltro ho prospettato ai leader dell'opposizione, delle forze di opposizione, la possibilità di costituire un tavolo di confronto con il Governo, utili ad assicurare alle forze di opposizione stesse una piena e costante informazione sull'evoluzione della pandemia in modo da offrire l'opportunità di veicolare e rappresentare più direttamente e più puntualmente istanze e proposte. Al momento questa proposta, è cosa anche nota, è stata rifiutata. Se ci fossero però ripensamenti posso confermare sin d'ora che la proposta del Governo permane immutata e rassicuro anche che la proposta non sottende una confusione di ruoli né tantomeno mira a una sovrapposizione di responsabilità. Il Governo è sempre stato, sempre rimarrà ben consapevole delle sue piene responsabilità di fronte al Paese rispetto a ogni decisione che ha assunto e che assumerà per mettere in salvezza la Nazione.